L'area di vigore della Rianese la palla viene affidata a Antonio Urzitelli che fa una rimessa in gioco un po' così un po' azzardata e in effetti poi la paga perché arriva il gol del Sant'Andrea rivediamo rivediamo adesso l'azione del gol di Sant'Andrea vediamo la palla torna per un attimo ad Antonio Urzitelli la deve giocare coi piedi però fa un rilancio non troppo preciso poi arriva il numero 7 Giovanni Mighelli mette la palla in rete d'altro canto Antonio si allunga per parare ma il tiro ormai era troppo preciso e niente da fare la palla entrata in porta bellissimo gol del Sant'Andrea al ventesimo minuto del secondo tempo